ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale sono sama barbara oggi con noi c'è l'odis ragazzi per lo speciale mille iscritti mi raccomando lasciare commento e un breve tempo passiamo subito al nuovo video ragazzi trattiamo una sfumatura bassa ovvero un low fail perciò ricordatevi come nei video precedenti infatti più o meno un anno fa che per prendere riferimento la stessa sfumatura prima di avere il sopracciglio quindi in questo caso prenderemo a fare una sfumatura bassa quindi dalla punta dei sopraccigli ci terremo poco poco più sotto quindi in questa zona qua stessa cosa dove c'è l'occipite ovvero ci terremo sotto l'occipite a livello della nuca senza perdere tempo ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.